Mezzi all'opera per trasportare e scaricare i grandi blocchi che andranno a formare il primo dei tre pennelli anti-erosione a Villa Rosa. Cantiere allestito e lavori al via questa mattina nella zona sud della frazione di Martinsicuro. L'intervento, pianificato dalla regione per una spesa di circa 500.000 euro, prevede la realizzazione di tre nuove barriere a distanza di qualche centinaio di metri l'una dall'altra, su un tratto di circa 500 metri di arenile. Quello, maggiormente colpito dall'erosione, che in alcuni punti ha mangiato praticamente tutta la spiaggia, arrivando all'altezza della pista ciclabile e della strada. Un bel risultato, sicuramente, quando meno di prospettiva, anche se chiaramente ce ne scusiamo con gli operatori turistici e tutti i cittadini dei lavori in corso da giugno in poi. Però si tratta di un intervento importante che doveva essere fatto molto tempo fa e qui chiaramente ci sono state dei ritardi non sempre giustificabili, delle polemiche inutili. Veramente c'è un territorio come quello di Villa Rosa Sud, ormai in crisi da anni, con dei soldi fermi legati a delle diatribe traenti che non hanno nessun senso. Un intervento, tra l'altro, molto più ridimensionato rispetto a quello che doveva essere. Si riferisce alle polemiche anche del comune limitrofo di Albanriatica, che era contrario a questo intervento per paura che poi l'erosione si spostasse più sulla loro costa. Sì, a questo, a come è stato gestito anche in questi anni, rispetto a delle ipotesi che si parlava di pontili in legno, cioè situazioni che veramente sono assurde. Quando ci siamo insediati che abbiamo letto queste ipotesi d'accordo, è stata allucinante. Legge che si stava lavorando su un intervento che non sarebbe servito a nulla. Chiaramente, insomma, il tema dell'erosione è un tema importantissimo, ci deve far riflettere, soprattutto ci deve far impegnare già da adesso a trovare risorse per difendere anche altre tattili di costa che a Villa Rosa, ma anche a Martinsicuro, che stanno già in emergenza. Adesso l'attenzione è concentrata tutta sulla durata dei lavori, che dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro un mese, un mese e mezzo. La stagione balneare è già iniziata e si prevedono inevitabili disagi per operatori, turisti e residenti, che chiedono anche la messa in sicurezza dei massi posizionati al ridosso della pista ciclabile, proprio per fare da barriera contro le mareggiate, ma che costituiscono un pericolo specie per i bambini che vi si arrampicano per gioco. Sappiamo che già anche questa sarà una stagione in emergenza, noi però abbiamo il dovere di lavorare in prospettiva e di progettare e programmare quella che dovrà essere la nostra costa nei prossimi anni, benvenga che ci possa essere un anno di criticità ulteriore, se poi questo può servire per avere ulteriori anni in cui potremo parlare di una spiaggia degna di questo nome.